Oggi abbiamo provato a fare una ricetta nuova Orecchiette Orecchiette Con la melanzana e la parmigiana avanzata Non si brucia niente Giusto Melanzana e la parmigiana Sugo e d'orecchiette Tutto mischiato Buona Manca un po' di sale però Sono arrivati i cuochi Ma Ricky non abbandona la cucina E' lì che controlla Che studia Guarda Ho sentito che hai detto Paola non lo mangia quello niente Però guarda ti facciamo il bicchierino solo di patate Va bene Vuoi provarla? Lo hai fatto vedere la pasta di oggi I calamari fritti Quelli da bambino Quelli rotondi Solo rotondi da bambino Esatto Perfetti Rotondissimi Come piacciono a me Bella Con del gelato dentro E il cannolo è fatto con caramello e frutta secca Buono No va bello Buonissimo